ehi la turma e benvenuti in questo nuovissimo video di ma ma in test siamo di nuovo su main testita come potete vedere o ben ritrovati che bello tornare a casa comunque come potete vedere dalla piccola scritta qua su in alto su consiglio del nostro grandissimo ammiraglio mozzo non lo so non abbiamo mai avuto dei ruoli tra noi della turma boh magari ci penseremo poi in seguito comunque ho aggiornato la versione 0.4.10 e no che texture bellissimo per la cobblestone ma anche gli strumenti guardate che texture spettacolari che hanno tra l'altro ho dovuto rimuovere degli unknown block che vi ricordate c'erano capitati nell'altra versione aggiornando le mod e ho pure eliminato le unknown creature che giravano qua che erano quelle della mod creatures che avevamo installato e poi dopo non l'abbiamo più utilizzato perchè aveva dei bug che erano pericolosi però adesso abbiamo variano un item nell'inventario oltre a un altro oggetto di cui vi parlerò tra un istante allora volevo costruire quest'oggi no non una barca volevo costruire questo che è di una mod che avrei dovuto lasciare in descrizione credo ma all'inizio forse le avevo dette le mod che stavo utilizzando sette di legno ce l'abbiamo già nell'inventario sette di legno si perfetto quindi 1 2 3 4 5 6 7 ci facciamo un bel cestino e lo piazziamo dove lo piazziamo? qua ci sta? si dai e a questo punto credo che dovremmo cliccare col destro con l'oggetto che abbiamo no ah lo mettiamo qua nell'inventario e lui lo distrugge perchè non sta distruggendo niente? forse devo chiudere qua se riapro ah no empty trash perfetto ok così non abbiamo più tutti quegli unknown block che ci danno fastidio temo che ne troveremo ancora andando in giro perchè ho caricato altre parti di mondo in cui però non sono andato a controllare se c'erano altri unknown block eccetera eccetera allora come prima cosa andiamo a risolvere il giochino diciamo dell'altra volta che risposto è stato il nostro caro amico Alessandro Mauro di cui ho già parlato prima sempre lui che ha risposto cosa sto cercando? allora sto cercando del ferro lui mi ha detto una spada in ferro e non abbiamo ferro? iron? steel? ah steel si ce l'abbiamo quindi craftiamo una spada e aveva detto avocado ok spada di ferro e andiamo a posizionarla sulla casella numero 1 della nostra cesta complimenti caro Alessandro eccoti qua perfetto ma che bello non so forse hanno cambiato qualcosa nella fioritura perchè mi sembra che ci siano molti più fiori dell'ultima volta che siamo passati in questo mondo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se c'erano tutti questi fiori un tempo o cosa comunque allora i progetti per oggi erano quello che ho fatto adesso del cestino quello che ho fatto adesso del mettere la spada di ferro altra cosa voglio parlarvi di questo oggetto ho dei progetti per il mondo di espanderlo un attimo visto che le cose basilari le abbiamo fatte quelle per la sopravvivenza per minare eccetera eccetera in conseguenza visto che volevo espandere un po' il mondo ho cercato delle mod per delle mappe da appendere in realtà non è che abbia trovato tantissimo anzi se avete qualche consiglio scrivetemelo nei commenti quello che ho trovato è questo qua è su modding general cioè sul forum di Mindtest sotto modding general fatta da non mi ricordo i chi però con il contributo di RealBedAngel che è appunto una cartina che se cliccate col sinistro vi fa vedere la zona circostante dove siete tra l'altro è molto carino perché non so se notate ma tutti gli oggetti viene messa la texture piccolina quindi qua ci sono delle canne da zucchero quindi viene messa la texture qua poi ci sono delle foglie quindi c'è la texture qua ci sono i fiorellini quindi c'è la texture le foglie cioè l'erba diciamo qua ci sono le ceste qua c'è il letto eccetera eccetera viene messa la texture come se li vedessimo di fronte nonostante che la mappa è presa dall'alto non è una mappa che rimane statica quindi non è come tipo quelle in Minecraft che le carichi qui dopo le puoi appendere da qualche parte eccetera eccetera questa non si può appoggiare e se la ripremi in un altro posto dopo un istante ti fa vedere la mappa del luogo dove sei in quel punto non è utilissima diciamo però è carina cioè no non è proprio per niente utile forse anche perché non aiuta a orientarti perché non è che puoi zoomare di più o di meno vedi solo questo che è praticamente la zona che già vedi nel senso sto vedendo tutto quello che c'è qua ok non vedo dall'altra parte della casa ma sì no qua vedo perché c'è il vetro comunque questo è quanto allora come uno dei progetti che volevo fare forse ne avevo già parlato in un altro video era di pulire un attimo questa zona qua presente in modo da creare uno spazio più verso l'altra l'altra zona lasciare un pochettino più pulito perché mi è venuta l'idea di fare visto che volevo costruire una barca comunque una base per noi della ciurma dato che non so se l'avete mai notato voi se l'ho mai fatto vedere in qualche video ho scoperto che qua c'è una parte con dell'acqua e come potete vedere c'è un piccolo vabbè questi scalini li ho fatti io e andando in là ok adesso ci metteremo un attimo perché sono andato nell'acqua perché sono così furbo boh comunque allora noi adesso andiamo in qua e c'è questo piccolo lago sotterraneo diciamo che è molto caratteristico secondo me molto carino e a questo punto usciti di qua che cosa c'è là in fondo? il mare! ok non è tantissimo mare credo fosse più grande in effetti è una spiaggia ma è molto interna come spiaggia credo fosse più grande però è il luogo dove siamo spawnati se vi ricordate bene e quindi io pensavo ho degli non blocchi in giro pensavo effettivamente uh ma che bella sta caverna qua con dell'acqua che scende no mi sto già immaginando un sacco di costruzioni un po' troppe forse allora io pensavo ehm di fare un piccolo canale diciamo da là adesso tolgo la la R altrimenti mi lagga troppo pensavo di fare un piccolo canale che da quel laghetto portava qua al mare in modo da poter passare con le scialuppe e arrivare a un'eventuale barca da costruire qua che però effettivamente visto che il mare è così ehm piccolo non so effettivamente quanto abbia senso di fare una grande barca qua però c'è anche da dire che non so dove potrebbe esserci altro mare nei dintorni questo mi sembra carino fare tipo una specie di rifugio no? e quella grotta là potrebbe anche essere utile tipo come caverna del tesoro dove mettere i nostri bottini pirateschi che bello ogni tanto mi diverto mettere R e vedere che cosa si vede di bello potremmo quasi quasi prendere un po' di strumenti da costruzione e andare a guardare in giro dove trovare uno specchio d'acqua però credo che come prima cosa uno andremo a dormire no beh tra un attimo perché volevo farvi vedere che secondo me non lo so non l'ho letto nei changelog però secondo me la notte è diventata molto molto più scura perché appena scende la notte tipo è buissimo non so neanche se si veda bene su youtube perché già nel mondo io stesso faccio fatica a vedere quanto quanto è buio insomma da quanto è buio e dovremmo raccogliere anche un po' di roba qua magari ce ne abbiamo di cibo in alimentare si dovremmo avercelo nella sacca numero 1 si 30 fragone adesso sta scendendo la notte inizio a scavare un po' qua intanto mentre aspettiamo che arrivi la notte già è molto scuro adesso ed è appena tramontato il sole cioè se andiamo tipo in qua no vabbè adesso si vede ancora un po' perché c'è ancora un po' di scia del tramonto però cioè in poco tempo non si vede più un cavolo di niente e quindi a parte che qua lo pulirò anche abbastanza in fretta sembra con questa palla di diamante uber power cioè tipo con un click distruggo tutto e questo dovrebbe essere vedete a me sembra molto più scuro di quanto non lo fosse in passato però forse è solo una mia idea non lo so mi sembra molto 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 scuro e poi diventa più scuro più in là quando è più notte diciamo vabbè comunque detto questo io metto un attimo in pausa la registrazione e pulisco questa zona di terra e ci vediamo tra un attimo a tra poco eccoci qui allora ho due notizie principalmente la prima è che come potete vedere puff ho messo tutto a posto qua ho pulito ho anche messo delle torce per favorire la crescita dell'erba una buona parte dell'erba è già cresciuta adesso ne manca ancora un po' ho quasi messo a posto qua anche la seconda notizia è una notizia molto molto più brutta per cui però dobbiamo tornare a casa allora in pratica la situazione è stata che io avendo quasi finito la pala dico torno a casa così vado al tool workshop per ripararla ma il tool workshop non funzionava dopo un paio di minuti ho visto che il cavo sotto faceva questa cosa così e non si collegava allora ho detto boh sarà un problema del cavo togliamolo e rimettiamolo si vede che non si è aggiornato ho provato ad aggiornare un blocco accanto niente ho provato a togliere il tool workshop e rimetterlo niente ho detto che non gli serve un altro tipo di cavi ecco la dura e triste verità sapete che cavi sono questi medium voltage cable questi macchinari sono tutti low voltage cable compresi le fonti di energia giù sotto di conseguenza noi non abbiamo assolutamente nessun modo attualmente per alimentare questo ambarada allora cosa ho detto beh andiamo a guardare allora medium voltage cerchiamolo dobbiamo fare la medium voltage battery box se vogliamo archiviare dell'energia ma non è indispensabile possiamo mandare direttamente l'energia che viene accumulata al tool workshop questi sono i cavi medium voltage electric furnace non ci serve medium voltage generator che però non apprezzo molto perché è un generatore quindi di conseguenza dobbiamo bruciare dei carburanti o bisogna andare continuamente all'accogliere della legna o bisogna continuare a minare del carbone ma perché non abbiamo tantissimo carbone qua dentro cioè abbiamo neanche tre stack di carbone oppure adesso mi è chiuso tutto medium voltage grinder non ci serve medium voltage transformer è quello che serve per passare agli altri e cosa rimane il medium voltage solar panel o solar array non mi ricordo più come si chiama solar array con tre low voltage solar array e medium voltage transformer guarda questo come si fa con tre solar panel quindi vuol dire che devo farne nove per un medium voltage solar array visto che sono tre di questi e ognuno di quelli bisogna tre solar panel allora guarda solar panel come si fa con tre doped silicon buffer e come si fa boh eh grandi problemi comunque se non mi ricordo male andava fatto con il mitril e noi di mitril quanto ne abbiamo trovato in questa stagione zero zero neanche una goccia di mitril di conseguenza che cosa diavolo possiamo fare l'unica cosa che possiamo fare è il medium voltage generator però questa secondo me è la cavolata più grande che si possa fare in questo mondo real bad angel io lo critico molto perché lui ha la fissa del fatto che il gioco deve essere molto difficile e dice devi giocare molte ore per poter costruire degli oggetti più avanzati e dico ma bello allora così costruisco gli oggetti avanzati per fare più in fretta se ci devo mettere delle ore per costruirli comunque io non sono molto d'accordo su questo anche perché per fare un medium voltage solar panel che non ti da tanta energia hai bisogno di tipo 10 unità di mitril una roba del genere per fare dei pannelli solari che ti diano un minimo di energia decente avresti bisogno di un sacco di mitril ciò vuol dire ore 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 Forse qua la stone Non abbiamo stone Ah no qua ce n'è Ok Un'unità ce l'avevo già Ne abbiamo bisogno di 5 ha detto Poi tanto che Finirà che ne avremo bisogno di nuovo Ma vabbè E quindi grandissimi casini Ma Non lo so chi me l'ha fatto fare Di aggiornare la moda Poi quello Cosa switcher la sotto Che cavolata Allora se non aiutasse per sta storia del tool Che ripara Del fatto che non hai bisogno di continuo carburante Per cuocere la roba E che puoi grindare Puoi trasformare la dirt in cobblestone E viceversa No non viceversa Però comunque Vabbè Era 5 di questi Così Poi c'era che cosa Ah no non erano 5 Ne servono altri 2 Bravo furbo Che sono E' un copper ingot Questo intanto ce l'abbiamo E lo possiamo Prendere E mettere E andiamo a prendere Altri due di cobblestone Cioè l'altri due di stone Avevo detto che mi sarebbe servita di nuovo Eh mi servì di nuovo Eh scusatemi ragazzi Ma funziona sottoterra questa mappa No Ah beh si fa vedere questo livello qua Ma se vado sopra me lo fa vedere questo livello qua Oh qua è tutta Brutta No non mi piace No comunque sopra me lo fa vedere questo livello Perché probabilmente Cioè non mi fa vedere la La storia qua Quindi Dubito Non mi fa vedere quello della dirt Diciamo Allora 2 di stone Ancora Facciamo che Fare questo generator Low voltage Poi di cosa abbiamo bisogno Dovremmo fare degli edifici più carini in seguito Solo che Cioè se ci continuiamo a trovare Questi problemi qua Ma Che diamine MV Non so neanche perché ho aperto lo cesto Che tristezza ragazzi No medium voltage grinder Sono così turbato Che proprio Non capisco più cosa sto facendo Questo non mi serve Eh Medium voltage transform Perché gli altri dovevano Ah no I stainless steel Non ne sono così sicuro Eh Copper coil Fine copper wire Tre copper ingot Quindi facciamo che cuocere un po' di copper va Così ce l'abbiamo già No questo è il grinder Electric furnace Nice Se poi forse dovremmo andare in miniera Ma no vabbè Ne abbiamo di stack di roba qua Diamanti ne abbiamo Sì Ho anche dei diamond block Dei mese block No non credo che sia urgente il fatto di andare in miniera Allora Iniziamo a fare dei copper coil Ne avevo bisogno di 4 Quindi così Per fare un fine copper wire Ma non mi ricordo di quanti ne avevo bisogno Credo 2 E poi ho bisogno di 4 di ferro Quindi facciamo che cuocere anche questo Se quello è finito No non è ancora finito Vai senti mettiti in pausa un attimo Ho bisogno del ferro qua Che è Kaiser? No 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 Potevi morire Allora Medium voltage generator Medium voltage solar array Perché non ho cliccato direttamente su quello? Copper coil Ne ho bisogno di 2 Che Sì Ok Che sono fatti in quella maniera là Quindi ho bisogno di Un'altra cosa Di Altri 8 Cioè altri 4 Fine copper wire Allora qua Ho cotto questo Facciamo che mettere lì questo 8 Ok Questo erano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 Ok ok Poi che cosa Con cosa lì attorniava? Era steal o era che cosa? Eh MV Sì Ok Lì attorniava da steal Dovrei averne abbastanza Sì perché 9-2 fa 7 Allora adesso abbiamo bisogno di Due di queste Ma mi sembrava diverso però quello Aspettiamo un attimo Allora Mi sembrava più Ah no è lo stesso Prenomatic tube segment è lui Un medium voltage cable ce l'ho Quello ce l'ho stainless steel Devo vedere se ho 4 di stainless steel Ne ho 3 ma vaffanbrodo Come si fa lo stainless steel? Ah è Era miscolando due dust Ma non mi ricordo più Stainless Non me lo farei anche vedere Come Kaiser si faceva Adesso C'era forse il chromium di mezzo? Era tipo 3 iron E due chromium Una roba del genere Qua nell'alloy furnace Tipo così E così Succede qualcosa? Non sta succedendo niente Sì Mi arrivano messaggi Di tutto il mondo Evviva Allora questo lo mettiamo a posto Insieme anche a questo Qua Non era così Allora Dell'iron era abbastanza sicuro Però non c'era chromium Era uranium No Forse era silver O magari Semplicemente Non è che Non era iron O magari Hanno cambiato Le ricette Nel frattempo E io non so assolutamente Niente Perché c'è anche la wiki Di real bad angel Che non funziona Per niente bene Non si capisce Un Kaiser Di niente Oh dei Credo che qua Dovrò passare Un'altra mattinata A cercare di capire Che cosa è cambiato Nel frattempo E questo è il casino Di non fare i video Con regolarità O forse era Con Lo Lo zinco Proviamo O forse Non erano le polveri Dovevo metterle in got No Ero abbastanza sicuro Sono abbastanza sicuro Delle polveri Scusate È collegato qua Sì Ma idol Vuol dire Che sta aspettando Che succeda qualcosa Off Che Barba Ma effettivamente Potrei andare a vedermi Un mio vecchio video Per capire come funziona Comunque Niente ragazzi Credo che per questo episodio Possa essere tutto Adesso controllo un attimo Ma Ehm Sì Siamo a 23 minuti Dovrebbe essere Quindi Diciamo che per questo episodio È tutto Io nel frattempo Cercherò di capire Come craftare quello E Crafterò il generatore E li collegherò Al tool workshop E caricherò Tutta la roba Se riesco Faccio anche una Una Medium voltage Cicciccicciac Ma no Non credo Che sia necessario In effetti Dipende un po' Da come funziona Il generatore Vabbè Comunque Ve lo spiegherò Poi quando registrerò Il prossimo video Io vi saluto Ci vediamo Al prossimo video Vi invito A iscrivervi A mettere un mi piace A visitarmi Visitarmi sulla pagina facebook E ah ecco Stavo molto dimenticando La domanda dell'episodio Torniamo nel punto Delle domande dell'episodio Veloce 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 che stanno passando i minuti Poi ci metto delle ore a caricare Oh qua è già quasi tutto a posto Perfetto Allora la domanda di questo episodio E Il gioco funziona sempre Allo stesso modo se non avete mai ancora giocato Ditemi il nome dell'oggetto che vi rappresenta Questa è una specie di gioco dell'oca Rispondendo alla domanda Nei commenti Avete diritto ad avanzare di una casella La domanda di oggi è Ditemi il nome di uno dei personaggi Giocabili in Valiant Hearts Nella serie che ho iniziato Detto questo Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.